Il CERIN è un centro di riabilitazione, il cui scopo è sia clinico che conoscitivo. Dal momento che noi facciamo ricerca sui pazienti con disturbi cognitivi acquisiti dovuti a lesioni cerebrali di origine diversa. Qui studiamo pazienti con disturbi del linguaggio, della memoria, della cognizione spaziale e offriamo una terapia del linguaggio, una terapia cognitiva e fisioterapia. Studiare i pazienti con danno cerebrale aumenta le nostre conoscenze sul funzionamento cognitivo e ciò permette a sua volta di studiare dei programmi riabilitativi più focalizzati. Questo è un trattamento riabilitativo per l'emianopsia, che è un disturbo centrale del campo visivo. Questi pazienti tendono a non compensare spontaneamente il loro disturbo o comunque a farlo in maniera inefficace. Per questo motivo andiamo ad allenare i movimenti oculari diretti verso la porzione cieca del campo visivo, in modo che possano compensare il loro disturbo. È un trattamento relativamente breve ma con buoni risultati. Il neglect è un disturbo che solitamente consegue a lesioni dell'emisfero cerebrale destro. Questi pazienti non riescono a dirigere l'attenzione verso lo spazio controlaterale e questo è un esempio di trattamento riabilitativo per il neglect. Attraverso l'uso di lenti prismatiche cerchiamo di reindirizzare l'attenzione del paziente verso lo spazio di sinistra.